Fermato dai carabinieri nella giornata di ieri, grazie all'aiuto di alcuni testimoni, un borseggiatore che aveva appena scippato una donna in corso Baccarini. La donna stava salendo in auto quando è stata avvicinata dall'uomo che le ha strappato la borsa dal braccio e poi è scappato via sotto lo sguardo di alcuni passanti. Sono quindi stati chiamati i carabinieri che, seguendo le indicazioni dei testimoni, hanno setacciato la zona verso la quale era stato visto scappare a piedi il borseggiatore. E in effetti le indicazioni dei cittadini si sono dimostrate puntuali. Nascosto dietro una siepe, gli agenti hanno scoperto il fuggitivo senza lasciargli altra via di scampo. L'uomo è stato accompagnato in caserma ed oggi comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.